Pochissimi anzi inizia la partita Catanzaro-Reggiana, ma intanto vi dico la formazione con Fulignati, Scito, Briganti, Scogna, Milo, Veroli, lo faccio un po' a memoria perché non ce l'ho qui davanti, con poi D'Andrea, Pompetti, Petriccione, Van de Putte, Biasci e Mello. Ma oltre alla formazione vi dico anche che, come sapete, ieri il Brescia in zona playoff mi perde contro il Parma, il che ci può anche stare, ma ci sono due grandi notizie oggi, la prima è che la Feralpi mi batte in rimonta in Modena da 2 a 0 a 3 a 2, quindi ciao Modena, per i vele off, fate i fischi da parte dello stadio e altri fischi vengono dal San Vito perché il nostro amico caro e ben amato Cosenza non mi va oltre lo 0 a 0 contro Cittadella, la Cittadella che riesce ad agguantare comunque l'ottavo posto nonostante le sette sconfitte consecutive e questo punto guadagnato, quindi niente, godiamoci con calma a noi questa gran bella partita e niente, ci vediamo nel post partita, ciao ragazzi!